Siamo contenti di annunciare il premio artistico Andrea Celano, la prima edizione che si terrà l'8 settembre qui a Perito. La manifestazione è dedicata al compianto maestro Andrea Celano, appunto deceduto nel 2017. Andrea era un artista importante per il comune di Perito, ha dato lustro al nostro comune in tutto il mondo. E quindi era doveroso da parte nostra, prima come amici e poi come concittadini, dedicargli un premio. Questo premio consisterà in un'estemporanea, tema libero, ripeto l'8 settembre, dove già molti pittori stanno aderendo. Quindi siamo davvero contenti che sia il ricordo di Andrea ma anche questo genere di manifestazione sta avendo un buon successo. Devo ringraziare ovviamente oltre il comune di Perito, devo ringraziare l'avvocato Gianni Michelangelo Cirillo, che è il coordinatore, il curatore dell'estemporanea, e ringraziare la fondazione Grande Lucania di Vallo della Lucania per il contributo. Quindi speriamo di riuscire davvero a fare qualcosa di importante per questo premio, che possa diventare ogni anno più grande. In ricordo di Andrea, ma anche per continuare a portare l'arte a Perito, perché Perito è un paese che ospita diversi artisti e quindi siamo orgogliosi di questo. E quindi l'arte può essere, oltre alle manifestazioni enogastronomiche o a tutto il resto che noi facciamo, anche l'arte può essere un volano per Perito per crescere ancora di più. L'invito ovviamente è steso agli artisti professionisti, ma anche agli appassionati d'arte. Per partecipare è molto semplice, basta scaricare il bando e la scheda di partecipazione dal sito prologoperito.it e inviarlo poi all'email peritoprologo.gmail.com Grazie per la visione!